Nuova patch significa nuovi moduli, nuove tattiche, nuove istruzioni e nuovi modi di giocare per divertirsi su FC24. Io sono il Santu, benvenuto in questo nuovo video e oggi ti vado a spiegare un paio di nuovi moduli che puoi anche personalizzare, che spesso non si vedono ma che sono molto efficaci e divertenti. Sono moduli che io utilizzo con questa squadra e di fatti nelle clip che vedrai durante tutto il video ci saranno delle parti di gameplay che io ho giocato in live l'altro giorno, trovi tutti i link qui nel canale Invio, per farti vedere un po' come si muovono i vari giocatori e quali sono le varie azioni che io consiglio di fare con questi moduli e che di fatti poi adesso ti vado a spiegare. Come sempre ti ricordo che sono assolutamente da personalizzare e ti do anche degli aiuti su come imparare a personalizzarli e come cercare di adattarli durante tutte le partite e in base ai tuoi risultati. Ma senza perdere altro tempo ti faccio vedere i primi due moduli e poi ti do un piccolo spoiler sugli altri due moduli di cui uscirà il video nei prossimi giorni. Allora, andiamo a vedere subito il classico, più classico di tutti, 4231, che sì è assolutamente tornato e sì è assolutamente utilizzabile e io lo utilizzo con il pressing una volta persa palla, 40 di ampiezza, 71 di profondità con equilibrato e passaggi diretti, con un piccolo asterisco. Il pressing è stato leggermente depotenziato e quindi ci saranno un po' di spazi in più al centro campo, ma il nostro 4231, che fa tanta densità al centro del campo, ci permette di dare un piccolo aiuto alla nostra squadra, alla nostra CPU, per stare al centro del campo. Ma se questa condizione non ti piace, dobbiamo cercare di mettere equilibrato e abbassare un po' la profondità, secondo me, tra il 60 e il 65, ma se risulta ancora troppo alta, abbassiamo fino a 55, perché portiamo la squadra in maniera molto standard, ma andiamo a vedere con le istruzioni tra pochissimo come andare a buildare esattamente questo modulo. Equilibrato, passaggi diretti, con 40 di ampiezza, ci permette di tenere la squadra abbastanza compatta, però non troppo stretta, ma nemmeno troppo larga. Se però ti piace giocare molto di più sulle fasce, ti consiglio addirittura di spostare il tuo cursore sopra il 71, perché come vedi qua sotto ti va a cambiare la descrizione dei giocatori e ti allarga la squadra leggermente un po' di più. Ma se vuoi lasciare la squadra un po' più bilanciata, ti ricordo di rimettere sempre 40, con tre giocatori in area e tre in angoli e uno posizioni, così non ci sbilanciamo troppo. Ma andiamo subito a vedere le istruzioni di questo modulo. Allora, con l'attaccante gli lasciamo l'ampiezza bilanciata con inserisciti alle spalle e un supporto in difesa base, così sta abbastanza libero di fare un po' quello che vuole lì davanti come terminale offensivo. Andiamo a giocare a vedere il nostro COC con un rientra in difesa, così si schiaccia un po' di più verso la linea dei centrocampisti e questo modulo diventa una specie di 4-5-1. Stessa cosa per i due esterni, con rientra in difesa e resta al limite per il cross. Perché resta al limite e non entra in area come facevamo sempre? Perché se gli metti entra in area per il cross, tendono gli esterni a buttarsi e a scappare verso l'attaccante e quindi a dare meno opzioni di ripartenza col contropiede, soprattutto quando hai palla con il terzino o con uno dei due cdc, perché vedrai subito che la squadra scappa, invece con resta al limite per il cross, i giocatori tendono a rimanere un po' più passivi verso la linea dei centrocampisti. Mentre hai due cdc, molto standard, intercetta linea di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro. Hai due terzini, resta dietro in attacco e sovrapponiti. Con un asterisco bonus, se hai uno dei due terzini molto offensivi, come possono essere anche in questo caso i miei, Llorente o Baciao, per esempio Cancelo, invece di mettergli resta dietro, gli metti partecipa all'attacco o semplicemente attacco equilibrato, così il gioco deciderà se farlo sovrapporre oppure no. Io tendenzialmente lo consiglio a chi gioca un calcio molto offensivo, ma se preferisci girare un po' più palla e avere dei terzini che tu decidi di far salire, lascia restare in attacco e all'occorrenza, con le freccettine in game, fai salire i due terzini durante la partita. Questo modulo è molto efficace per iniziare la partita, per gestire il risultato, quindi magari se stai vincendo 2-0, 3-0, vuoi mantenere il risultato senza essere troppo passivo in fase difensiva, ma comunque avere una buona copertura al centro e anche sulle fasce. Non ti consiglio comunque di utilizzarlo per tutta la partita e adesso ti faccio vedere il perché. Sto riutilizzando il rombo, ma non quello stretto, che sì, dopo la patch si può utilizzare, ma è ancora molto complicato ed è in fase di test, ma magari arriva nei prossimi giorni qui sul canale. Questo è il rombetto largo, un 4-1-2-1-2, con pressing una volta per saparla, come vedi un po' più largo, sempre 71 di profondità, equilibrato, passaggi diretti e qua 71 di ampiezza, come ti dicevo prima, ma qua è una condizione necessaria perché questo è un modulo largo. E adesso ti spiego bene come utilizzare questo modulo perché non è difficilissimo, ma va spiegato perché, come vedi qua, hai assolutamente un CDC singolo e un COC-CC. Ma la cosa fondamentale sono le istruzioni di questo modulo, perché questo è un modulo che può potenzialmente diventare un 4-5-1 in linea o un 4-2-3-1, un 4-2-4 in base a come gli diamo le istruzioni ed è altamente personalizzabile in base ai giocatori che tu hai in squadra. Una condizione fondamentale di questo modulo è che il CDC abbia un buon work rate, solitamente un normale alto, un basso alto come appunto c'hanno Rijkaard, i vari Witzel, Chouameni, perché il CDC deve stare fisso, piazzato davanti alla difesa e in base ai tuoi gusti puoi preferire un Kanté, un Makelele, quelli là piccolini ma molto agili, oppure un Gigante appunto come Rijkaard, i vari Viera, questi qui, sogno in grande. Dipende molto dal tuo gusto, indipendentemente da questo l'utilizzo è praticamente lo stesso, è il classico palo piazzato davanti alla difesa che deve solo recuperare i palloni e poi smistare verso le fasce. Andiamo a vedere le istruzioni e qua ti sorprenderò. Ovviamente una delle due punte deve essere uno con un buon passaggio per imbucare quell'altra, quell'altra punta, la classica coppia Neymar-Mbappé, cioè Neymar con tanto passaggio, una specie di falso 9 e Mbappé il nostro finalizzatore. Io c'ho Son come falso 9 e tu come finalizzatore. Son gli mettiamo, rimani centrale, inserisci dalle spalle, intercettazioni aggressive, questa è la chicca di questo modulo e con il rientra in difesa noterai che con il rientra in difesa il tuo attaccante o chi che sia praticamente si andrà a schiacciare sulla linea dei centrocampisti e questo è utilissimo quando tu recuperi palla con il tuo centrocampista o con i tuoi terzini ad esempio e vuoi subito partire in contropiede, ma noterai che c'hai l'attaccante praticamente a ridosso del tuo COC, a ridosso del tuo esterno sinistro del tuo esterno destro. A me una cosa che piace soprattutto in fase difensiva, cioè nel senso in fase di recupero palla ho un uomo in più che sì ok è un giocatore offensivo ma ti ricordo che abbiamo visto intercettazioni aggressive e gli dà un po' più, gli va da fastidio all'avversario fondamentalmente. Andiamo avanti, l'altro attaccante rimani centrale, intercettazione alle spalle, intercettazione aggressiva e in questo caso rimani in avanti. Il nostro COC che in questo caso è De Jong ma ovviamente va modificato in base a come preferite voi, rientra in difesa, resta al limite per il cross, per quella cosa che ti dicevo nel 4-2-3-1 altrimenti scappa troppo e non c'ho un'opzione di passaggio che è il mio COC, è fondamentale avere un COC che stia sempre sul pezzo e anche a lui intercettazioni aggressive. Ai due esterni rientra in difesa, gioca largo, per quella cosa che vi ho detto prima nelle tattiche dopo il 71 di ampiezza, si stanno praticamente attaccati alle linee e la squadra avversaria, non la vostra, si sfalda totalmente con resta al limite per il cross e intercettazioni aggressive. Non gli metto nessun tipo di supporto perché personalmente non mi piace molto perché con inseriscita alle spalle scappa troppo, con accorcia e rimane troppo passivo e con torre ovviamente non sono dei giocatori abbastanza forti fisicamente per poterla fare, quindi gli lasciamo supporto equilibrato. Uguale per entrambi gli esterni. Al CDC intercetta linee, resta dietro, intercettazioni aggressive che è clamoroso soprattutto se avete quei CDC come Kanteo e Rijkaard per esempio che hanno il playstyle dell'intercetto, quello con l'amo. Copertura al centro e poi hai due tersini, resta dietro e attacco misto, in questo caso non ci metto sovrappogniti perché abbiamo già l'esterno che in game proprio vedrete che sono molto vicini tra di loro e dovete cercare di fare delle triangolazioni che avete sicuramente spesso visto nel video qua sotto tra il CDC, il COC, l'esterno, l'esterno, il COC e l'esterno di nuovo o l'attaccante in base alla condizione di gioco. Uguale per entrambi i tersini e ovviamente due portieri resta dietro. Nel prossimo video vi farò vedere il 451 e il 4321, quindi mi raccomando state sintonizzati in questo canale, nei prossimi giorni vi farò un video sul 451 e il 4321, questo è il 451 quello con i 3CC che non avete ancora visto online perché voi avete visto solo quello con i COC, state sul pezzo su questo canale iscrivendovi, lasciando like e scrivendovi nei commenti se avete qualche dubbio, io vi aspetto tutti i giorni in live sulla piattaforma Gola, il link è in descrizione, io sono il santo, alla prossima, ciao!